ciao ben tornato sul canale di stats for bets in questo video vedremo il secondo aspetto della mini guida per iniziare a guadagnare con le scommesse sportive il tema di questo video è la gestione del budget e il rapporto con il denaro se non hai visto il video precedente quello relativo alla mentalità ti consiglio di guardarlo perché comunque c'è un filone unico da seguire che è quello della costanza giornaliera quotidiana o comunque settimanale del cercare di avere buone pratiche di betting buone pratiche che non significa solo fare buoni pronostici ma avere proprio un comportamento tra virgolette corretto come scommettitore la prima cosa che dobbiamo dire quando si parla di rapporto con il denaro e di decidere quanto investire nelle scommesse sportive è che dovremmo rapportarci con i soldi da utilizzare ad una cifra che possiamo permetterci di perdere cioè dovremmo cominciare a investire in scommesse sportive una cifra che possiamo toglierci dal portafoglio e che non influisce sul nostro regime di vita normale è un po' come se andiamo al cinema spendiamo 20 euro per andare al cinema non è che appena usciamo dal cinema stiamo con la testa a pensare di dover lavorare per recuperare quelle 20 euro andiamo a cena fuori non è che pago la cena spendo 100 euro e penso immediatamente dopo cavolo domani devo lavorare per recuperare quelle 100 euro della cena con le scommesse la stessa cosa dobbiamo utilizzare una cifra che possiamo permetterci di perdere perché è importante dire che si può parlare di investimenti sportivi trading sportivo scommesse azzardo quello che vi pare il vostro capitale è in ogni caso a rischio parlare di scommessa sportiva betting exchange non significa vincere al 100 per cento l'investimento sportivo se è fatto sulla partita sbagliata sarà un investimento sbagliato e quindi i soldi possono essere persi di conseguenza io devo utilizzare una cifra che posso permettermi di perdere perché è importante ribadire che c'è il rischio di perderle quelle cifre qualunque cifra 10 euro 100 euro mille euro qualunque cifra che decido di utilizzare devo essere in grado di assorbirla senza che nella mia vita ci siano effetti negativi questa è una cosa che ci tengo a premettere da subito perché troppo spesso quando vedo sui social instagram telegram twitch i tipster o comunque le persone che parlano di scommesse si parla sempre tanto dell'investimento e del guadagno ma si parla sempre poco del rischio di perderlo questo investimento quindi utilizziamo una cifra che possiamo permetterci di perdere ovviamente per ognuno vale una cifra diversa io posso permettermi di perdere mille euro un altro può permettersi di perderne 200 un altro ancora magari può permettersi di perderne solo 50 non è screditante la cifra dalla quale partiamo spesso mi capita di ricevere mail da ragazzi che magari vincono delle schedine con il superfoglio mi dicono guarda ho studiato per farmi vedere hanno fatto un buono studio però un po si vergognano tra virgolette di utilizzare cifre basse però potevo giocare solo 10 euro non è assolutamente una vergogna giocare 10 euro giocare 10 euro 100 euro con mille euro non fa un tipster più bravo di un altro anche perché ripeto sui social purtroppo c'è questo modo di comunicare che secondo me è veramente molto sbagliato che si fanno vedere sempre grandi vincite grandi cifre scommesse che fanno solamente invogliare chi sta dall'altra parte ma in realtà non gli spiegano non gli raccontano la verità della situazione considerate che secondo me parere mio il 99 per cento delle cose che si vedono sui social con cifre particolarmente eclatanti sono fake secondo me sono fake anche perché c'è da dire che tipster particolarmente importanti hanno una cosa di cui non parlano che sono le auto revenue share ossia il bookmaker con cui stringono l'accordo ti rimborza parte delle perdite anche a me è stato proposto avevo un rimborso del 40 per cento quindi se io facevo vedere che giocavo mille euro in realtà se poi quelle mille euro in un'unica puntata mille euro una puntata da mille euro se le avessi perse me ne avrebbero rimborsate 400 quindi già non era vero che stavo giocando mille euro ma ne stavo giocando effettivamente mettendo a rischio 600 quindi ci stanno purtroppo nell'ambiente del betting c'è veramente tanto sotto bosco a cui fare attenzione quindi una buona regola è il buon senso sostanzialmente avere buon senso ragionare sul fatto che quando sembra tutto così troppo facile magari è meglio non prestare troppa attenzione quindi il nostro rapporto con il denaro deve essere rapportato a una cifra che possiamo semplicemente permetterci di perdere ognuno di noi ha una cifra diversa ognuno di noi non deve vergognarsi se parte con una cifra che considera piccola perché ovviamente 10 euro sono poche se le rapportiamo alla vita di tutti i giorni però se io posso permettermi quelle 10 euro oggi inizio con 10 euro avendo una buona pratica e facendo delle buone scommesse magari tra un mese sono arrivato ad averne 50 e quindi potrò scommettere con 50 euro quindi si ritorna al concetto della mentalità bisogna andare per step non bisogna avere fretta e bisogna evitare di mettersi in problemi più grandi perché se andiamo se abbiamo solo non so uno stipendio di 1500 euro e perdiamo i soldi con cui avremmo dovuto pagare il mutuo l'affitto o la spesa ci mettiamo in dei problemi molto più grandi quindi non ha senso iniziare un percorso che diventa pericoloso magari ci fa perdere l'affitto cioè non non è proprio una cosa assolutamente da consigliare a nessuno tenete conto poi che utilizzare cifre che non possiamo permetterci di perdere ci mette in una condizione di svantaggio psicologico proprio nel momento effettivo in cui andiamo a fare la scommessa perché se io vado al ristorante e so che quelle 100 euro che spendo al ristorante in realtà non le posso spendere cioè neanche mangio bene neanche mi godo la cena perché cioè ho già il magone che in realtà quelle 100 euro mi servivano per altro scommettere è la stessa cosa perché comincio a scommettere so già che devo vincere so già che ho bisogno di vincere quindi andrò sicuramente a studiare in modo sbagliato perché andrò a studiare nell'ottica dei soldi che mi servono quindi magari cercherò quote troppo alte giocate troppo difficili oppure di contro andrò ad avere paura scegliere cavolo mi metto l'uno no meglio la 1x cioè no non si studia in questo modo la testa deve essere libera di sapere che se mi metto a studiare una partita può andare male due possono andare male ma se mi do il tempo di studiare in maniera corretta di imparare a studiare in maniera corretta le partite che andranno bene saranno sempre di più di quelle che vanno male e gestendo in maniera intelligente il budget riuscirò piano piano a far crescere il mio budget anche per questo motivo io consiglio sempre a tutti quelli che si iscrivono al superfoglio di dedicare i primi tempi per primi tempi possono voler dire dieci giorni quindici giorni o magari un mese nel pacchetto annuale il fatto che vengono regalati tre mesi in più rispetto ai dodici quindi chi compra i dodici mesi in realtà ne ottiene 15 è fatto proprio per far capire alle persone di avere più tempo da dedicare magari a fare scommesse a zero budget cioè vedo solo se ho imparato a studiare molti mi dicono io a zero budget non mi piace scommettere magari una piccola cifra ma la voglio utilizzare lo capisco e va bene se se decido di perdere un euro due euro tre euro nessuno va in difficoltà per perdere di questo di questo genere però se per dieci giorni non utilizzo neanche un euro posso permettermi di perdere tutte le partite che voglio e capire come studiare e quali partite andare a giocare e quali no perché considerate che scommettere tutti i giorni non è che ti fa diventare infallibile non è che io non sbaglio le scommesse nonostante lo faccio ormai da anni ci stanno dei giorni che magari studio male le partite sono troppo difficili non do una buona lettura faccio le cose di fretta e magari sbaglio le mie giocate quindi se non utilizzo coerentemente il budget anche nei giorni in cui sbaglio le giocate è meglio le lascio perdere quindi l'obiettivo deve essere questo coerenza utilizzare budget che ci possiamo permettere di perdere e darci un po di tempo per imparare a farlo poi se imparare a farlo lo vogliamo fare con piccoli budget va bene lo stesso se so che c'ho solo 100 euro con cui iniziare eviterei di utilizzare subito tutte 100 euro per fare i miei test e le mie prove anche se poi le vinco e non ho un ritorno economico cioè pensiamo a un ritorno economico tra un mese due mesi tre mesi non pensiamo a un ritorno economico domani quindi questa è una cosa importante un altro consiglio che secondo me è utile è di non scommettere in base a quello che ho in tasca in quel momento cioè se faccio un esempio sulla post pay c'ho 30 euro carico oggi 30 euro e gioco quelle 30 euro poi tra 20 giorni mi servono un po di soldi scarico quelle 30 euro che magari sono diventate 50 ma dopo una settimana ne ricarico 70 cioè non fare questo togli e metti togli e metti anche se piccoli budget scegliamoli l'ideale sarebbe annuale ma io stesso mi trovo in difficoltà a concepire un budget che utilizzerò nell'arco di tutto l'anno quindi magari facciamolo mensile questo mese decido di togliere 300 euro dallo stipendio per iniziare a scommettere con quelle 300 euro il mese successivo mi rapporto con il budget che ho ancora in tasca cioè non è detto che devo rimettere altre 300 euro dal secondo stipendio magari continuo ad andare avanti con quelle che ho messo inizialmente quindi avere un primo range e cercare di rispettarlo è importante immaginiamo che vada tutto male il primo mese perdo tutte le 300 euro il 20 del mese ho perso tutte le 300 euro la cosa corretta da fare sarebbe fare sarebbe uno se ho perso tutto in 20 giorni sarebbe chiedersi se è corretto continuare a scommettere perché potrebbe anche voler dire non fa per me meglio che lascio perdere e due è ok no voglio continuare a imparare voglio continuare a tentare ok allora dal 20 al 30 del mese non scommetto il mese successivo ricomincio mi ridò un altro budget e lo riutilizzo per quel mese perché molti non concepiscono l'idea del dover imparare e del dover rapportarsi con la perdita cioè la colpa in realtà non è la loro non è dello scommettitore la colpa è del modo in cui si comunica sulle scommesse sia da chi ci sta dietro quindi sui vari social sia gli stessi bookmaker che ti fanno vedere sempre bonus multipla bonus segna non so lukaku bonus questo bonus quello quando ti regalano troppi bonus c'è sempre lì anche un po' dietro la fregatura perché dice se è così facile vincere ti pare che i bookmaker stanno qui per regalarci i soldi ecco no non stanno qui per regalarci i soldi quindi cerca sempre di decriptare la comunicazione che vedi se c'è il bonus multipla è molto probabilmente perché in multipla è molto più facile perdere e quindi cerca una scommessa dove non c'è il bonus ossia la singola perché non si è mai parlato del bonus singola perché in singola è più facile vincere e di conseguenza il bookmaker non gli interessa che tu giochi in singola molto molto semplice il ragionamento scegliendo un po' nella invece nella gestione diretta del nostro budget ti porto qui dentro al blog perché trovi un articolo secondo me interessante allora qui nel blog ci sono questi quattro pulsanti iniziali qua ci sono le tecniche della community alcune strategie facili alcune strategie un po' difficili e poi ci sono le guide fondamentali tra le guide fondamentali c'è questa che è il mio money management del metodo investimento chiarisco che di money management ne esistono miliardi si può gestire come vogliamo la nostra giocata e soprattutto secondo me si dovrebbe imparare a calibrarla su se stessi perché non è detto che prendere delle tecniche o comunque delle strategie prestabilite sia una cosa con cui ci troviamo a nostro agio io personalmente faccio sempre tantissima fatica a seguire regole imposte dagli altri cioè quindi fai così fai così e fai così io mi stufo presto quindi magari lo faccio una settimana e dopo dieci giorni lo lascio perdere perché non mi sento a mio agio quindi per esempio nel metodo investimento ci sono delle linee guida però andrebbero tranquillamente adattate a quella che è la tua esigenza particolare la cosa che a me piace del metodo investimento è che è un metodo cautelato che dà dei consigli anche qui di buon senso cioè partire per esempio con lo scommettere mai più del 10% del nostro budget perché mai più del 10% perché se perdiamo non non andiamo subito in difficoltà con l'acqua alla gola cioè se ho solo 100 euro e scommetto subito 40 euro e le perdo cioè mi sono quasi dimezzato il budget ed è troppo invece magari utilizzando il 10% c'ho un po di margine anche che due tre quattro giocate mi vanno male allora lì ho perso il 40 per cento ma dopo quattro che mi vanno male non dopo una che mi va male e questo è importante perché un'altra cosa da concepire è che ogni giorno che noi scommettiamo siccome lo dobbiamo fare tutti i giorni l'ideale sarebbe farlo tutti i giorni per trovare un utile quotidiano significa che non tutti i giorni dobbiamo fare 100 schedine anzi noi il nostro obiettivo deve essere quel piccolo utile quotidiano che appena l'abbiamo raggiunto lasciamo perdere cioè se dopo una giocata dopo una schedina noi abbiamo raggiunto il nostro utile quotidiano basta chiuso chiudo il bookmaker e vado a fare altro perché se oggi ho vinto la cifra che mi ero prestabilito e subito dopo cerco di nuovamente di rigiocare per continuare a vincere ancora secondo me non è l'atteggiamento corretto perché su dieci schedine che posso farne aumento la possibilità di perdere se faccio il mio studio corretto su una o due schedine al giorno una volta che le ho vinte basta ma anche una volta che le ho perse perché è ovvio che se ogni giorno non è ci stanno centomila partite quindi se quelle due tre partite avevo considerato migliori le gioco dopo restano partite che avevo considerato meno buone di conseguenza non ha senso andare a scommettere su partite che ho considerato meno buone l'obiettivo mio personale è giocare sostanzialmente una singola al giorno se ci sono le condizioni il sabato e la domenica sicuramente sì due singole e poi un raddoppietto o due raddoppietti io mi regolo veramente con non più mai più di due tre schedine al giorno ancora più importante secondo me è anche aspettare che la schedina finisca se gioco in singola posso giocare due singole contemporaneamente perché ovviamente magari cominciano tutte e due allo stesso orario hanno tutte e due gli stessi parametri le utilizzo però non teniamo 20 schedine aperte contemporaneamente perché altrimenti li ritorniamo nuovamente nella condizione che non riusciamo a gestire il nostro budget perché sto usando troppi soldi quindi giocate limitate al giorno una due proprio nel weekend tre aspettiamo che finiscono così il giorno dopo posso regolarmi per sapere quant'è il mio nuovo budget perché ovviamente ogni giorno aggiorno il mio budget ho cominciato con 100 sono arrivato a 130 quindi il giorno dopo parto con 130 l'obiettivo magari arrivare a 150 so che un giorno due giorni tre giorni così possono sembrare lenti posso possono sembrare che sto guadagnando poco possono sembrare che non mi diverto ma provate a farlo per un mese o due non vi chiedo di farlo per un anno provate per un mese o due in questo modo e vedrete che poi quel piccolo gruzzoletto che avete fatto crescere in questo modo vi darà soddisfazione ne sono certo perché le persone che mi hanno dato fiducia finora seguendo queste indicazioni indipendentemente dal superfoglio oppure no non sto parlando di abbonarvi al superfoglio sto proprio parlando di gestire in questo modo il vostro budget con altri software senza software studiate da soli vi fate i calcoli a mano va bene tutto ma provate questa strategia dei piccoli passi dopo un mese o due che il vostro budget ha fatto le piccole crescite vedrete che vi sentirete soddisfatti di quella piccola crescita e poi ovviamente questo è normale chi ha un pochino più di budget da poter utilizzare avrà una soddisfazione economica un po più alta questo è innegabile ma ci si può arrivare perché se oggi comincio con 100 lo faccio crescere fino a che magari il mese dopo riparto con 200 e poi riparto con 300 tra tre mesi si può fare quindi è una cosa che che veramente mi mi sento di consigliarvi per questo video sul budget direi che abbiamo detto tutto ci vediamo nel prossimo video tra una settimana in cui entreremo più nello specifico di quelli che sono i numeri effettivamente da dover imparare ad analizzare ci vediamo nel prossimo video